Una banda di spacciatori trasformati in attacchini, un grande elettore di quartiere, sacchi della spesa, pacchi di pasta, forme di formaggio, qualcuna persino scaduta, e alcune migliaia di voti ottenuti al villaggio Santa Rosalia durante le ultime elezioni regionali, mettono nei guai il deputato regionale del nuovo centrodestra Francesco Cascio. Voto di scambio politico-mafioso, l'ipotesi di reato avanzata a suo carico è del senatore Marcello Gualdani, ex presidente allo IACP, che all'epoca di fatti era uno dei fedelissimi di Cascio. Un'inchiesta nata praticamente per caso da alcune intercettazioni telefoniche è che i sostituti procuratori Sergio Barbieri e Alessandro Picchi, coordinati dall'Aggiunto Dino Petraria, avevano chiesto di archiviare. Ma prima il GIP Lorenzo Iannelli, che ha respinto la richiesta di archiviazione, poi il sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio, che proprio ieri ha notificato la vocazione degli atti, hanno di fatto riaperto il caso. E domani, nel corso dell'udienza di comparazione, fissata dal GIP e con tutta probabilità, la procura generale chiederà di ritirare la richiesta di archiviazione e proseguire le indagini. Questa è la vicenda. Nelle settimane immediatamente precedenti nelle elezioni regionali del 2012, la Guardia di Finanza intercette alcuni personaggi del villaggio Santa Rosalia, già indagati per droga, Savatore Ficarotta, Luciano Virzi, Pietro Locasto, quest'ultimo poi arrestato per rapina proprio alla vigilia del voto, si muovono per far campagna elettorale per alcuni candidati, tra cui Clemente e Cascio. Fanno la spola con i comitati elettorali, affigono manifesti, distribuiscono pacchi con la spesa alle famiglie del quartiere, annotando sezioni, nomi e cognomi di quelle persone, come ordina Luigi Mazzagreco. E' lui, già candidato presidente alla quarta circoscrizione, il punto di riferimento dei politici ed è lui il regista della raccolta e della distribuzione della spesa. C'è un carico di derrate alimentari da prendere al supermercato Auschan del centro commerciale Poseidon di Carini e destinato alla Carleway Tiva Ollos. La distribuzione dei pacchi era a tappeto, ma qualcuno si lamentava pure. Con la spesa mi hai fatto litigare con le persone, diceva Ficarotta, si affacciavano dal balcone, a me non me la dai e altri, la spesa scaduta, il formaggio, tutta la plastica gonfia, il latte tutto scaduto. A trattare con Mazzagreco era Marcello Gualdani. La voce di Cascio viene intercettata una volta mentre parla con lui e con Andrea Gulemi, che non rassicura le persone che vengono qua già sanno che devono votare. Mi segui Presidente, io sono sereno.